Alla forza di rimediare ad una momentanea situazione di svantaggio, poi però il Picerno si arrende nel finale alla Casertana che la vince di misura 2-1, grazie al rigore trasformato da Montalto ad una decina di minuti dal termine. I Lucani dunque non riescono a dare continuità al successo interno contro il Cerignola e tornano a conoscere l'amarezza della sconfitta nel campionato di Serie C, la quarta nelle ultime cinque partite. Niente sorpasso, in quarta posizione ai danni dei campani che si portano ora a più 4 sul collettivo di Emilio Longo con la terza affermazione consecutiva. Padroni di casa per i Colossi a metà frazione, Montalto fa la sponda, Curcio non incide con il destro. Dopo la mezz'ora ecco la sventola a mancina di Anastasio, Somma è bravo ed efficace nella replica. Si fa notare anche il Picerno, mancino di novella, Bomber Murano non ci arriva sulla traiettoria. Finale di tempo di marca campana, carretta di testa sul secondo palo spreca una ghiotta chance, Montalto con la soluzione ad incrociare non trova lo specchio. Il parziale però cambia in pieno recupero e Curcio di testa in tuffo a battere così, Somma. Casartana avanti di un gol a metà gara con il 14esimo centro del suo attaccante in questo campionato. La ripresa si apre con il pari del Picerno che arriva prima dell'ora di gioco. Murano si inventa un destro da applausi che ristabilisce l'equilibrio e non lascia scampo avventuri. Gol numero 19 per lui in campionato. Vuole vincerla comunque la Casartana. La parabola beffarda di Deli dopo la deviazione produce solo un corner per i campani che rimettono la freccia. Poco dopo Somma già a Monito in precedenza per perdita di tempo. Ferma così in aria Tavernelli, secondo giallo, rosso e calcio di rigore. Montalto dal dischetto spiazza il mio entrato Merelli tra i pali e riporta avanti la squadra di Vincenzo Cangelosi che poi con l'uomo in più custodisce il vantaggio sino al termine senza particolari patemi. Finisce 2-1 al pinto per la Casartana. Picerno che resta così a quota 57 punti in graduatoria ed atteso ad un pronto riscatto nel match casalingo contro il Brindisi. Già retrocesso ma riduce da tre vittorie consecutive.